Allora, buongiorno a tutti, sono Chiavari Oggi facciamo un giro per Chiavari, perché c'è il sole, vero Matteo? No C'era una volta C'è Marlon Brando, Maria Teresa di Calcutta e un Viet Cong Poi non so bene la parola Maria Teresa di Calcutta, Marlon Brando e un Viet Cong che vanno in Parlamento E niente E non è la barzelletta E non è la barzelletta Forse, 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 non lo sappiamo E non è la barzelletta E non è la barzelletta E non è la barzelletta Bene, siamo qui dopo aver mangiato tipo due litri di frullato alla Nutella In piazza del mercato Ci sono le macchinine carine E ora io e la Nicola andiamo a prenderci la focaccia perché abbiamo voglia di frullare Oh yes! Atmosfera di Natale qui a Chiamine quanto pare E infatti stiamo andati al mare No oggi siamo andati al mare, ho fatto il bagno No oggi non abbiamo fatto il bagno Vabbè perché siete stronzi Se avessero stato bello l'8 dicembre però fare il video al mare Vabbè Vi salutiamo No Sì No E niente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti